Giovedì a Bari sono in programma nuove audizioni in terza commissione relative alla proposta di legge primo filmatario Fabiano Amati sulla riduzione delle liste d'attesa in sanità e interverranno i rappresentanti di Cigelle e Cisle Will che hanno già annunciato la loro provocatoria proposta se chi si reca al CUP per prenotare una visita a un esame diagnostico non riesce a avere un appuntamento nei tempi previsti dal codice di priorità riportato dal medico in ricetta piuttosto che pagare la prestazione in intramenia o da un privato può chiedere al direttore generale dell'asile di appartenenza che la prestazione stessa sia resa in regime di attività libero-professionale intramenia ma coronere a carico del Servizio Sanitario Nazionale una proposta che evidentemente farebbe saltare il bilancio regionale alla luce del mercato di sallineamento tra le prestazioni erogate in attività istituzionale col semplice pagamento del ticket è quella in intramenia e che si spinge oltre la stessa proposta di legge ancora sarebbero pronti migliaia di stampati da distribuire nei CAF in merito e un documento unitario già stato inviato al governatore Michele Emiliano e al direttore del Dipartimento della Salute Giancarlo Ruscitti audizioni che si annunciano quindi particolarmente vivaci anche alla luce dei tempi di attesa forniti dagli stessi sindacati che sostanzialmente danno ragione ad Amati Un'accelerazione destinata a lasciare spiazzati tutti ad eccezione il Movimento 5 Stelle L'ipotesi di elezioni anticipate addirittura a luglio pone un evidente problema di candidature in tutti i partiti ad eccezione dei grillini che hanno già annunciato la riconferma in blocco degli uscenti che in Capitanata hanno vinto tutte le sfide nell'Unionominale sullo slaggio di un trend nazionale travolgente e senza nemmeno la visibilità mediatica della concorrenza Che succederà nelle altre coalizioni uscite entrambi a pezzi dal riscontro con le urne? Nel Partito Democratico verrà concesso una rivincita ai tanti big sconfitti i consiglieri regionali in primis o si punterà su nuove figure? Liberi uguali diventerà alleato da avversario? Anche nel centro-destra la situazione incandescente, in particolare in Forza Italia dove l'elezione nella quota proporzionale della sola 28enne Anna Elsa Tartaglione paracadutata dal Molise direttamente dai vertici nazionali ha scatenato l'ira funesta dei sacrificati nell'Unionominale da Gian Diego Gatta e Michela Di Donna e il coordinatore regionale Gino Vitali è finito sulla graticola All'usciere il confronto interno si è trasformato in una resa dei conti destinata a cambiare equilibrio e strategia e la Lega di Salvini presumibilmente continuerà la sua campagna acquisti puntando proprio sui delusi azzurri come fatto con l'ex capogruppo in consiglio regionale Andrea Caroppo oggi segretario regionale leghista nonostante la sconfitta elettorale interrogative incognite pesantissime in un quadro in continuo mutamento Se sul bilancio l'Andella ha incassato la maggioranza e l'emendamento anti-abusivismo respinto anch'esso a maggioranza a far discutere il consigliere di Fratelli d'Italia Giuseppe Meniero è infatti proposto in aula l'attivazione di un fondo di 185.000 euro destinati all'abbattimento dei manufatti abusivi e al ripristino delle aree il tutto per scongiurare il proliferare di attività abusive che stanno nascendo soprattutto nella zona della Chiesa delle Croci al momento del voto però la maggioranza si è schierata contro l'emendamento anti-abusivi 16 voti contrari del gruppo landelliano astenzioni perfino da parte della Lega che sui temi della legalità e della sicurezza ha fatto il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale a votare a sostegno dell'emendamento contro gli abusivismi invece il Partito Democratico e l'intera opposizione Non abbiamo accolto emendamenti strumentali sull'abbattimento di manufatti abusivi visto che la legge di bilancio già prevede che i proventi delle sanzioni amministrative nel settore urbanistico siano destinate esclusivamente alla manutenzione ordinare e straordinaria delle opere di urbanizzazione e dalla demolizione di costruzioni abusive amministrare una città è cosa ben diversa dai quarti d'ora di celebrità di cui qualcuno va mediaticamente in cerca è il commento del sindaco Landella Ma in bilancio, osserve il consigliere Mainiero i fondi per l'abbattimento delle opere abusive non esisterebbero e non sarebbero previsti Il sindaco Franco Landella scrive un messaggio guarda verso Vigiano che a sua volta risponde Antonio Vigiano riceve un altro messaggio durante il consiglio comunale interviene anche Fiore per vedere cosa dice Landella dall'altra parte del telefono Poi Vigiano fa un lieve cenno con la testa dopo qualche minuto abbandona l'aula e lo segue anche il sindaco al rientro rigorosamente separati la Lega annuncia la sua stenzione sul bilancio invoca il senso di responsabilità Non accetteremo posti in giunta, avvisa Vigiano ma quella stenzione politicamente diviene distensione dei rapporti tra Lega e Landella Con 17 voti a favore passa il bilancio di previsione grazie anche ai voti di Iaccarino, Clemente e Cassiti del centro-sinistra Dall'altra parte i contrari sono 12 mentre è proprio l'astenzione della Lega a far segnare una differenziazione dall'opposizione C'è una maggioranza che tiene questo è il dato politico ha detto Landella prendendo la parola in aula è proprio tra i banchi dell'aula consigliare anche il segretario cittadino della Lega Silvano Contini che non ha proferito parola durante l'annuncio dell'astenzione della Lega che da opposizione è diventata conciliante nei confronti di Franco Landella prosegue quindi quell'opera di convincimento da parte del sindaco che vorrebbe allargare a 20 consiglieri l'orizzonte della sua maggioranza adesso lo scarto per governare è di appena due voti I carabinieri di Teramo hanno eseguito una misura di custodia cautelare nei confronti di 10 esponenti della criminalità della provincia di Foggia accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti di Bancomat, detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, furto aggravato, danneggiamento aggravato ed attentato alla sicurezza dei trasporti Gli arrestati, secondo quanto emerso dalle indagini sarebbero accusati di una serie di furti a Bancomat messi a segno in provincia di Teramo dal 2017 con la tecnica della marmotta Le indagini avrebbero accertato infatti l'esistenza di un sodalizio criminale stabilmente associato, dedito ad azioni delinquenziali e responsabili agli assalti degli istituti di credito per lo più appartenenti al gruppo Banca Popolare di Bari, ex Tercas composto da soggetti di origine foggiana che si trasferivano nel Teramano, rimanendo il tempo strettamente necessario per il combimento dell'azione delittuosa per poi ripartire immediatamente dopo A capo del gruppo un foggiano che organizzava gli assalti a Bancomat nella provincia di Teramo e di altre località nel territorio nazionale procurando i mezzi di trasporto, cellulare e schede telefoniche spesso attivate proprio a ridosso dei colpi essendo lui un titolare di un negozio di telefonia a Orta Nova Dalle indagini è anche emerso che una buona parte degli illeciti ricavati alle attività criminali venivano destinati a sostenere le spese legali di eventuali soldari arrestati per gli oneri derivanti dai sequestri dei veicoli a fornire sostegno ai relativi familiari 9 colpi che sarebbero stati emessi a segno dalla banda 9 comuni del Basso Tavoliere ad un passo dall'emergenza rifiuti circa 135.000 abitanti rischiano di essere travolti dall'immondizia visto che la CSRL e la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nei comuni della BAT, dei Cinque Realisiti e di Cerignola sta per implodere a causa della grave crisi economica come se non bastasse i comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia hanno deciso di risolvere il contratto con la società ENAUS e adesso il baratro è più vicino opposizione al sesto lotto di discarica da parte del presidente del consorzio Forgia 4, Franco Metta debiti pregressi e inchieste del NOE stanno portandola sia ai titoli di coda nel mezzo 300 dipendenti restano alla finestra ad osservare le evoluzioni Bisogna ancora chiudere il bilancio del 2017, l'esercizio 2017 l'esercizio 2017 si trova attualmente con una perdita conclamata accertata di 3 milioni di euro per una gestione del 2018 servirebbero circa 18 milioni di euro di questi 18 milioni di euro con 13-14 milioni di euro e con la sottoscrizione dei contratti si ne coprirebbe una parte resterebbero altri quasi 3-4 milioni di euro e che anche qui non si sa come e dove andarli a prendere Io la visione l'ho presa, l'ho presa con la mia giunta l'ho presa con il mio consiglio comunale risoluzione del contratto per il ademimento garaponde, individuazione dell'onora ditta l'onora ditta doveva assumersi i lavoratori e nel frattempo gli esperti contabili con un amministratore unico verificheranno quali sono le condizioni di sopravvivenza o meno della SIA e laddove la SIA dovesse non essere più nelle condizioni di poter gestire questo servizio chiaramente si seguiranno gli adempimenti di legge Erano arrivati a Vieste per realizzare un documentario sul mare e sulle bellezze del Gargano e sono stati invece derubati di tutto la loro attrezzatura professionale è accaduto sul centro garganico dove una truppo di una casa di produzione video tedesca ha subito il furto di telecamere, microfoni, computer e tutta l'altra attrezzatura un furto da oltre 10.000 euro secondo quanto ricostrito dai carabinieri che sull'accaduto hanno aperto un'inchiesta la truppa era a pranzo in un ristorante in località Molinelle e hanno lasciato tutta la loro attrezzatura in auto a fine pranzo la mara sorpresa tutto il materiale era stato rubato i giornalisti tedeschi hanno denunciato l'accaduto alla tenenza dei carabinieri al centro garganico che stanno verificando la presenza in zona di telecamere della videosorveglianza che potrebbe aver registrato qualcosa di utile a identificare gli autori la truppa sarà così costretta a tornare in Germania soprattutto a non documentare le bellezze del Gargano chissà se invece racconteranno l'accaduto che certo non è un bel biglietto da visita per il nostro territorio Sono 220 le prologo pugliesi e sono in attesa da 28 anni di una legge di riordino una legge licenziata ieri all'unanimità dalla quarta commissione preceduta da Donato Pentastuglia insieme allo schema di statuto associativo e che punta a favorire un ruolo attivo delle prologo nella promozione turistica di base e a definire gli ambiti di intervento con cui potranno anche stipulare convenzioni con i comuni stabilendo la competenza in materia di contributi e introducendo procedure semplificate di iscrizione tenuta dello specifico albo regionale soddisfatto il presidente dell'UMPLI Unione Nazionale Proloco Rocco Laucello ha udito prima della discussione e approvazione del disegno di legge Ci gratifica questo grande riconoscimento della regione visto anche il lungo periodo di assenza in quanto noi abbiamo una legge dopo 28 anni è un grande risultato che pone la Puglia alla pari delle altre regioni d'Italia quindi è un motivo di soddisfazione e di orgoglio da parte mia e di tutto l'aggiunta e il Consiglio regionale delle prologo di Puglia Cosa prevede nello specifico il nuovo disegno di legge? Il nuovo disegno di legge prevede grandi opportunità per i giovani d'altronde le prologo sono associazioni di aggregazione di giovani tra l'altro noi con la nostra rete delle prologo già generiamo progetti per la conoscenza di quegli ambiti di località poco conosciuti quindi le prologo sono i giacimenti culturali locali noi siamo per i cosiddetti campanili e quindi cerchiamo di salvaguardare le nostre località Proseguono i festeggiamenti per i 150 anni del liceo classico Lanza questa mattina è stata consegnata una targa all'illustre medico foggiano cui la scuola è intitolata una lapide a futura memoria segno tangibile di questi festeggiamenti ha detto il preside Giuseppe Trecca rivolgendosi agli studenti presenti forse oggi non capirete appieno l'importanza di questi giorni che stiamo celebrando ma è il nostro dovere ricordare la memoria storica e l'eco del tempo che passa per poter andare lontano una lapide celebrativa in pieno stile Lanza ha detto ancora Trecca che coniuga cioè tradizione e classicità con uno sguardo al futuro ricordiamo questi 150 anni di storia e l'intuizione del sindaco Lorenzo Scillitani che ancora viva tra di noi ha ricordato il sindaco Franco Landella 150 anni che rappresentano la storia di chiunque sia passato da questa scuola intorno a queste celebrazioni infatti vi è la storia di tanti ragazzi orgogliosi di essere foggiani e di appartenere a questo istituto ha concluso il sindaco intorno a queste celebrazioni infatti vi è la storia di tanti ragazzi orgogliosi di essere foggiani e di appartenere a questo istituto ha concluso il sindaco i festeggiamenti proseguiranno questa sera al Teatro Giordano a partire dalle 20 e 30 con una edizione speciale del Lanza in Festa tra gli attesi ospiti lo scrittore Luca Bianchini Pulsatilla ritorna al liceo classico è una festa che ricordi hai di questa scuola? beh questa è la scuola dove veniva anche la mia mamma è una scuola che sta dietro casa di mia nonna è sempre stata nel mio immaginario prima ancora di essere studentessa qui entrare qui è stato un po' un ingresso nella storia della mia famiglia che è una famiglia dove la letteratura ha sempre avuto grande importanza e qui come tutti i ragazzi che stanno qui si costruisce un po' l'identità della persona perché sono anni importanti quindi è molto importante quello che viene seminato qui in quegli anni sia da parte dei docenti sia da parte dei ragazzi di quello che danno nello scambio di quello che accolgono, raccolgono e quindi ho dei ricordi magnifici e anche molto forti e molto duri perché quel periodo non solo attraverso ciò che si legge e si studia ma anche attraverso quello che si vive proprio direttamente di cui i libri rappresentano un ingresso naturalmente è molto forte è molto bello io ho dei ricordi molto belli non è vero che il liceo classico non serve a niente? guarda come tutte le cose dal telefonino eccetera dipende dall'uso che se ne fa cioè i posti gli oggetti le situazioni sono neutri dipende che cosa ci mettiamo noi dentro quindi questo posto è un'occasione magnifica per far vivere insieme alle persone intorno alla cultura se i propositi e le azioni sono buone ricche di talento di iniziativa di cuore altrimenti come tutte le cose che non vengono usate con il cuore muore e non serve a nulla quanto può essere importante una formazione classica per gli studenti che poi proseguono il loro percorso di studi e scelgono appunto di proseguire l'università? allora è assolutamente importante allora tutte le formazioni che vengono erogate agli istituti medi e superiori ovviamente sono assolutamente importanti ognuno ha la sua caratterizzazione ma è indubbio che la formazione classica sia fra le più complete in assoluto e fra l'altro gli studenti e le studentesse che escono da un liceo classico peraltro prestigioso come il Lanza non solo a livello cittadino provinciale ma anche regionale hanno mediamente una preparazione particolarmente su tutti i fronti e quindi possono iscriversi anche in generale a qualsiasi corso di laurea di qualsiasi dipartimento Assessore Giuliani le celebrazioni del Lanza una festa per tutta la città perché poi ci sarà proprio una grande festa mercoledì le celebrazioni sono iniziate ho visto che c'erano tutti i partner coinvolti l'aula magna come sempre gremita un grande abbraccio l'ha definito il preside Trecca ed è così questo è un grande abbraccio è un abbraccio delle istituzioni a un'istituzione è abbraccio della città il riconoscimento a una scuola che in più hanno definito ormai un faro un punto importante della città e poi la festa la festa è un passaggio ideale un po' la metafora di quello che è il convegno di oggi Lanza tra passato presente e futuro una festa sui gradini di una scuola perché poi metaforicamente parlando sì quei gradini quelle scale rappresenteranno il volano per questi ragazzi quelle scale porteranno loro ovunque decideranno di andare io mi auguro il più lontano possibile ed è un incontro ancora una volta tra il passato per cui tra i docenti che sono stati tra gli ex alunni tra il presente i ragazzi che sono qui oggi con un occhio al futuro il passato a volte rischia di sbiadire nei ricordi allora si mantiene viva la memoria il futuro è una bella pagina che deve essere scritta e dovranno scriverla a loro e allora festa sia il gargano è di nuovo blu in provincia di foggia tornano a sventolare le bandiere che premiano il mare più bello assegnato a Roma l'ambito riconoscimento tra le novità del 2018 spiccano quelle di peschici rodi garganico e zapponeta e tra gli approdi turistici eccellenti c'è anche la marina del gargano di manfredonia 32 i criteri da rispettare del programma della foundation for environmental education per ottenere la bandiera blu tra cui la qualità del mare ma anche la gestione del territorio vivibilità in estate valorizzazione delle aree naturalistiche l'efficienza della depurazione delle acque reflu e della rete fognaria la raccolta differenziata la presenza di vaste aree pedonali e piste ciclabili la Puglia totalizza in tutto 14 bandiere blu nel barese assegnata solo a Polignano a mare per la BAT c'è anche Margherita di Savoia per la provincia di Brindisi ci sono Fasano Stuni e Carovigno Castellaneta e Ginosa nel Tarantino e per il Salento premiate Melendugno Otranto Castro e Salve voglio complimentarmi con i sindaci di Rodigarganico di Peschice e di Zapponeta ha commentato il governatore Michele Emiliano per aver fatto raggiungere alle rispettive comunità e all'intera regione questo importante riconoscimento che come sapete premia non soltanto la qualità del nostro mare ma anche la qualità dell'ambiente e dei servizi collegati al turismo balneare grazie a tutti